buongiorno saluti ben trovati gravello concerto all'alba settantesima edizione 11 agosto 2022 mancano pochi minuti lo vediamo dall'orologio all'ingresso le alle 5 30 inizio la grande novità di quest'anno è la presenza di erina questa maestra direttrice d'orchestra proveniente dal mondo americano che ha fortemente voluto alessio lad il pubblico già sta entrando anzi i cancelli sono aperti già da una mezz'oretta abbondante eccola questa lona giornale erina yashima la prima volta sul podio del ravello buongiorno a voi ospiti importanti per oggi il nostro piccolo e sottile desiderio che accarezziamo è sempre quello di vedere l'arrivo della l'ingresso una volta è da un lato una volta dall'altro lato entra in anticipo quindi non riusciamo mai a beccarla a più tardi per alcuni brani in diretta che avremo modo di potervi trasmettere a buttare rarrivo per Grazie.